Eccolo, oggi il sottopasso di via Rambolina è stato ufficialmente riaperto al traffico. Per alcune settimane rimarrà a senso unico da nord verso sud, in sostanza da Bassano verso Rosà, per poi trasformarsi in un senso unico alternato con il posizionamento di due impianti semaforici. L'inaugurazione del sottopasso è stata però anche l'occasione per il comune di Bassano per togliersi qualche sassolino dalle scarpe nella guerra contro Rosà. Spingete le accuse di aver perso tempo. Non abbiamo perso tempo. Quello che è stato concordato ed è certificato da una comunicazione che ci ha mandato proprio il comune di Rosà, noi l'abbiamo fatto. C'è stato un po' di discussione sul trovare la modalità di messa in sicurezza dei pedoni, credo sia legittimo che io mi preoccupi di non buttare via i soldi dei cittadini di Bassano. In ogni caso l'abbiamo aperto. Quindi il comune di Rosà nel frattempo a me personalmente non ha mai chiesto niente. Io ho letto sui giornali la polemica. Aperto il sottopasso resta però ancora un'altra questione, quella relativa al passaggio dei camion diretti alla Beifin ed impossibilitati a transitare in comune di Rosà. Io credo che non si possono fare ordinanze per impedire ad aziende di un altro territorio comunale di percorrere le strade del proprio territorio comunale, mentre a quelle del tuo territorio comunale glielo consenti. Questo è chiaramente illegittimo, quindi facciano quello che vogliono, vedrà il nostro sindaco con il sindaco di Rosà. Proprio per trovare una soluzione alla questione, nei prossimi giorni è previsto un incontro tra i due comuni e la stessa Beifin.